ciao buonasera qui matteo pittaluga in diretta da dubai vediamo un po chi c'è collegato stanno arrivando varie persone su instagram ciao instagram e siamo anche in diretta su facebook luigino lorenzo ciao pisciotta roberto ciao margherita ciao samuele ciao di non sempre presente grande dino ciao elenia ciao 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 cristi grande cristi ciao ci stanno collegando un po di persone a tutte le parti anche su instagram abbiamo persone che si stanno unendo daniel castorani benvenuto buonasera condividi questa diretta perché sarà ricchissima di valore di contenuti io sono matteo pittaluga in questo momento mi trovo a dubai stiamo settando anche l'ufficio a dubai quindi vedrai molto presto un bell'ufficio di marketing genius anche da queste parti che dire ieri abbiamo fatto si è concluso il mastermind che abbiamo fatto qui a dubai è stato un qualcosa di incredibile per chi non lo sapesse in questi ultimi tre giorni da venerdì a domenica abbiamo fatto un mastermind qui con un gruppo ristretto di imprenditori venuti da tutte le parti d'italia e anche fuori dall'italia per partecipare per dare il proprio contributo ad altre persone soprattutto per imparare e confrontarsi tanti di questi sono imprenditori nel settore tradizionale altri invece sono imprenditori che lavorano puramente online allora dal confronto che è avvenuto in questi giorni abbiamo detto perché non facciamo una bella diretta dove parliamo di online contro offline cioè è meglio fare business su internet o meglio fare business esclusivamente promuovendo il proprio prodotto offline cioè dal vivo cosa più potente io ti dico la mia te la dico subito poi andiamo ad analizzare un po di cose spero di esserti d'aiuto nel tuo business che voglio svelarti veramente alcune idee per fare i soldi sia dal vivo se tu hai un business dove hai un negozio fisico magari o in attività dove parli con le persone dove hai a che fare con esseri umani va bene oppure per anche l'online cioè chi non vuole magari chi e magari preferisce un po di più stare da solo chi è un po più introverso chi vuole fare soldi e usare il web senza necessariamente dover parlare face to face o avere rapporti umani ecco vediamola così quindi ti darò idee per entrambe le cose soprattutto ti dico la mia te la dico subito ciao vittoria ciao chiara ti dico la mia la migliore è la combo di entrambe quindi non esiste una verità assoluta non esiste è meglio fare business online oppure è meglio fare business offline parlando con le persone la migliore di tutte se sei un imprenditore vuoi fare soldi per qualsiasi business tu abbia o qualsiasi business tu voglia promuovere la migliore la combo di entrambe devi avere una presenza online per me è fondamentale di fatto ci siamo anche confrontati in questi giorni con imprenditori nel settore tradizionale quindi chi ha il proprio locale chi ha la propria attività fisica c'era una la mitica claudia bellan che forse anche collegata magari che lei ha dei centri benessere quindi un imprenditore essenzialmente classico che ha un negozio fisico o meglio un punto di ritrovo nel giorno diciamo nell'anno 2019 ormai non puoi prescindere dal fatto di essere su internet cioè essere sul web è veramente qualcosa di imprescindibile necessario anzi obbligatorio per questo che la cosa assurda anche chi ha un'attività fisica chi ha un business locale fa business online la gente crede che business online significa solo fare affiliate marketing no business online significa avere la propria attività e avere una presenza sul web per chiaramente generare contatti e portarli nel proprio settore nel proprio negozio sia esatto la come la miglior cosa online offline questa è forte supremo matteo grande vittoria grazie di cuore la combo è vincente grande sono d'accordo che siete d'accordo cioè sono fuso ragazzi sono contento che siete d'accordo con me qui a dubai tratto sono 10 di sera perché siamo avanti tre ore quindi io sono verso fine giornata voi siete ancora più freschi di me forse quindi parliamo un po di strategie ok qual è la migliore strategia allora io questa cosa qui l'ho imparata dal network marketing nel network marketing tanti di voi fanno network di tanti di quelli che mi seguono e me lo chiedono spesso matteo ma qual è la migliore strategia per il network marketing per il network cosa consigli e dal network voglio partire perché poi la mia esperienza digitale partita da lì usando metodi online per generare contatti e dal network marketing ho capito una cosa perché io ho avuto successo nel network marketing quando lo facevo offline cioè parlando con le persone io mi ricordo adesso non ce l'ho biglietti da visita ma io mi ricordo che andavo in giro a volte anche con la mia cartelletta con i campioni di prodotto e andavo in giro a dare i bigliettini a promuovere il mio business di network davo i bigliettini per dire ehi chiamami ti offro un'opportunità quindi ho fatto tanti contatti offline facevo le presentazioni offline andavo lì con le mie scatole di prodotto mi sedevo lì e davanti a un pubblico di tre persone inclusi cani e gatti e cercavo di promuovere la mia attività di network e non mi cagava nessuno quindi aspetta che sistemi un microfono e ho capito una cosa allora io cosa ho fatto mi sono buttato prettamente online a fare i network aspetta che sistemo la camicia cos'è almeno il microfono evita di volare promuoverevo la mia attività offline all'inizio e poi detto no vado esclusivamente online c'è un problema però sai qual è che online le persone non si fidano e ancora oggi nel 2019 praticamente siamo nel 2019 le persone non si fidano di comprare online e il motivo numero uno per cui non comprano online e che non sanno chi c'è dietro o non sanno quello che succede dopo quando tu vedi un sito web o vedi un'offerta a meno che non sia amazon o ebay c'è siti ultra riconosciuti ormai e di che hanno una certa validità ormai le persone li conoscono si fidano ne hanno già sentito parlare o magari hanno già acquistato quindi se non sei ebay o amazon puoi avere dei problemi online stessa cosa nel network marketing io l'ho vista perché promovevo online a manetta ma le persone non si fidavano cioè in qualche modo era molto più difficile chiudere qualcuno prettamente online allora da lì ho capito una cosa l'online ti serve per e questo qui vale per ogni tipo di business è trasversale l'ho capito attraverso network marketing ma poi iniziate a testarlo con altre cose l'online serve ad aprire la mente della persona seguimi se tu capisci questo passo è veramente la chiave per fare soldi promuovendo qualsiasi cosa l'online serve mettergli la pulce nell'orecchio la persona vede un prodotto online e può dire che figo oppure può dire non mi fido cioè troppo bello per essere vero mi hai sentito la frase il troppo bello per essere vero bene quando le persone vedono qualcosa online che è figo la prima cosa che pensano è troppo bello per essere vero qual è il discorso che se tu promuove qualcosa di super figo a qualcuno dal vivo uno dice sì ma troppo bello per essere vero e tu hai il tempo poi visto che sei di persona hai il tempo di spiegarglielo e di convincerla che effettivamente proprio così online questo non avviene capisci cioè se io vedo e ti sto parlando appunto di vantaggi e svantaggi se io vedi una pubblicità che scorre su facebook che ti dice ecco come fare soldi e mettere sul tuo business in tre giorni e guadagnare i primi soldi online tu dici è troppo bello per essere vero oppure vedi la pubblicità di un ristorante la tua cena da sogno per 19 euro tu dici non ci posso credere troppo poco ti sembra sempre una mezza truffa dal vivo se conosce qualcuno che te ne parla è un tuo amico un conoscente dice ma sai che ho fatto la cena della vita a 20 euro oppure sono stato in questo ristorante della madonna ho speso solo 20 euro ed ero con una mega vista su cosa ne so dubai uno dice dai non ci credo dimmi dove spiegami meglio e uno dal vivo ti può dare le informazioni online questo non avviene online il visitatore scappa scappa quello lì è il dramma perché è difficile fare soldi online perché non entriamo nella mentalità del offline offline quando tu dici a una persona che qualcosa è troppo bello per essere vero la persona ti chiede ehi non ci credo e tu a quel punto vai a intervenire hai la possibilità di giocartela e di fare la vendita o comunque di dare più informazioni online la persona dice vaffanculo e ormai al giorno d'oggi con un click uno se ne va fuori dalle palle perché talmente tutto veloce arriva la notifica arriva la cosa oppure semplicemente salti e ti dimentichi di quello che hai visto seguimi ti dimentichi di quello che hai visto allora se entriamo nella mentalità del prendere quello che avviene offline e cercare di metterlo online tu hai vinto perché offline tu hai la forza della fiducia hai la forza degli occhi dello sguardo della parola e la maggior parte dei business si chiudono di persona la maggior parte delle vendite si chiudono con i rapporti umani è molto difficile te lo dico io che l'ho fatto bene e ho avuto anche successo facendolo online e sono anche stato abbastanza stupido perché ho deciso di farlo puramente online e tralasciavo completamente la parte offline io ero uno di quelli che se non ti iscrivevi con me nel mio network o non comprare il mio prodotto in automatico fanculo non mi interessi e sbagliavo perché perdiamo un sacco di gente un sacco di gente alla quale sarebbe bastato dire una parola perché la cosa più incredibile questa che quando tu qualcuno ti contatta per il tuo prodotto servizio la maggior parte delle volte questi credono di avere delle domande ma lo sai qual è l'unica domanda l'unica domanda che vogliono capire se sei vero unica domanda è quella che è quello che vogliono capire che che esisti che effettivamente che cavolo ne so vogliono solo un rapporto umano vogliono solo parlare con qualcuno e la maggior parte le domande che ti fanno sono assolutamente senza senso e li puoi rispondere fidati chi l'ho testato li puoi rispondere in qualsiasi modo la cosa più incredibile quando arriva un contatto caldo dal web un contatto veramente interessato che ti inizia a fare domande realmente le domande ci sono già scritte magari nel tuo sito magari lei già mandato un email con le informazioni ce l'hanno già come quando capitava con le feste in barca con le feste in barca la gente mi chiamava e mi diceva ciao vorremmo fare la festa in barca e dicevo ok guarda il prezzo è 89 euro e le bevute bla 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 già che si si lo so allora che cazzo mi ha chiamato a fare no vogliono parlare con qualcuno e semplicemente gli devi dire ok prenota ok paga ma lì è l'orgasmo supremo di ogni internet marketer avere gente che ti chiama e vuole solamente pagare io non c'ero arrivato io pensavo che chi ti chiama deve avere mille dubbi mille segmentali il 99 per cento dei casi invece io ti dico che è il caso di una persona che vuole solo e unicamente parlare con te per vedere se esisti per vedere se effettivamente quando se il telefono suona tu rispondi e un altro consiglio che ti voglio dare appunto adesso posso partire quanto è vero grande monica e monica ne sai qualcosa di queste cose sono d'accordo se sei d'accordo condividi il video dai condividi questo video dammi una mano a mandar fuori questa voce perché può illuminare veramente tante persone quindi tu imprenditore classico che dici l'online non ha senso sei un poveraccio perché se al giorno d'oggi pensi che l'online non abbia senso ti stai veramente rovinando l'attività e ne parlavo più volte ho letto questa statistica da pelle d'oca l'84 per cento delle start up o 85 fallite negli ultimi due anni non aveva un sito web allora c'è una forte correlazione sul fatto di avere successo e avere un'attività online poi questa cosa del sito la maggior parte di voi anche tanti che mi seguono ciao giovanna raffi tu sei grande tu sei grande fabrizio anche mi dice che sono un grande no tu sei un grande tu sei un grande dei giovani dice che sono un grande sono così grande ragazzi ho iniziato ad andare in palestra però non sono ancora così grande assolutamente si dice lisa su instagram lui dicevo la maggior parte degli imprenditori ragazzi che non hanno imprenditori classici dico che hanno un'attività fisica magari un negozio un centro benessere piuttosto che aspetta che sto sminchiando instagram mi sta volando via maggior parte gli imprenditori che dicono no online no no il vero oi networker no il vero network è offline sei un poveraccio perché non hai capito che il vero network è offline e online offline per chiudere le vendite online per generare i contatti perché perché ti ripeto online tu non avrai mai la forza che hai nel parlare con una persona però offline non avrai mai la possibilità di parlare con mille persone in un secondo non avrai mai possibilità di parlare con mille persone in un secondo ti voglio mostrare una cosa se riesco condivido lo schermo su facebook cioè su instagram non lo potete vedere lo schermo condiviso però ascolta perché ti dirò quello che sto facendo voglio condividere una cosa se riesco condivido lo schermo lo faccio vedere per dirti il potere dell'online il potere e questi qui sono dati piccoli adesso guarda te lo faccio vedere ti vado a condividere lo schermo tra un secondo dovresti vederlo apparire poi vengo alle domande ragazzi vengo alle domande ok adesso vedete il mio schermo questo qui è click magic è un software che uso per tracciare i miei risultati online e vedi io per esempio pubblicità con 20 mila persone che le hanno cliccate 1800 1600 5 mila 433 questo può essere al mese ma nel 13 mila cioè totale 58 mila persone non che hanno visto il mio annuncio che hanno cliccato quindi persone che mi hanno ascoltato il più delle volte sono video di 5 minuti quindi pensa che io negli ultimi penso che sia nell'ultimo mese e mezzo una cosa così ho tipo 58 mila persone 58 mila persone seguimi attentamente ripeto 58 mila persone che hanno ascoltato un mio video di 5 minuti e non andare a vedere il mio sito 58 mila persone ho parlato secondo te io personalmente con 58 mila persone no no è impossibile non posso avere 58 mila persone con cui parlo in un mese o due mesi è impossibile quanti quante sono al giorno c'è solo il telefono li calcola 58 mila e vai a vedere quante quante persone sono al giorno stiamo parlando di centinaia migliaia di persone mille persone al giorno mille per seconda io posso parlare per cinque minuti con mille persone al giorno è impossibile per questo che io dico se tu non calcoli l'online per promuoverte con il segreto l'online deve servire a scremare questo il vero internet marketing non ascoltare i guru i super tecnici super affiliati ragazzi sti super affiliati che mi lampano ti dicono no fai gli split test testa tutta automatizza fanno zero soldi ragazzi la maggior parte di loro fanno zero soldi con tutte le loro minchiate tecniche io ti dico martella io ti dico massima esposizione massima visibilità e non sbagli mai porta più persone a cliccare sul tuo maledetto sito e fallo in automatico poi dopo una volta che tu hai usato l'online per creare l'interesse online deve servire solamente a scremare la massa di cretini che penseranno questo è uno scemo o questa roba non mi interessa semplicemente non fa per me o magari questo fa schifo tu di scremare tutti quelli e lasciare i contatti caldi i contatti caldi però lì il segreto devi chiudere offline devi portare offline devi in qualche modo organizzare una macchina che porta la persona dall'online all'offline e dall'offline all'online e lì il segreto occhio quindi spero che sia stato chiaro il discorso del adesso arrivo le domande anzi se ci sono domande fammele scrivi le domande nei commenti però voglio fare una cosa scrivi le domande nei commenti e ti rispondo solo se condividi il video perché faccio una consulenza gratuita dammi una mano dai condividi il video condividi il video condividi condividi se questa roba ti piace se questa roba ti piace io vado in diretta nei prossimi giorni anche nelle prossime settimane e voglio portare ogni giorno un pezzo di internet marketing e analizzarlo oggi parliamo dell'online e dell'offline e di strategie di online offline poi voglio fare dirette su affiliate marketing voglio fare dirette su network marketing promosso online toccherò tutti i temi del mondo online per dare veramente il quadro vero di cosa cosa significa lavorare online in modo che ognuno possa trovare la propria via e possibilmente prendere degli spunti interessanti però condividi questa diretta in modo da creare sempre più pubblico e darci e darci una mano ok allora arrivo alle domande intanto scrivetemele abbiamo capito il discorso del usalo online pubblicità spendi in in advertising spendi in facebook ad spendi in google ads senza paura senza paura perché se tu spendi soldi in pubblicità anche pochi euro stai togliendo del lavoro dalla tua bocca altrimenti devi andare tu a parlare o devi mandare qualcuno a parlare di te spendi pubblicità e del modo di averci l'automatica pubblicità online significa non parlare significa non parlare parla solo quando vai a chiudere la vendita apri la bocca e usa il telefono solo quando c'è da chiudere qualcuno altrimenti risparmiati le parole fai lavorare online per scremare tutti i contatti per far derivare solo i contatti caldi e bene usa tutto questo solo per fare i contatti caldi adesso arriva le domande essere le domande poi c'è il discorso del offline per portarlo online perché io vedo una quantità enorme di persone che lavorano offline e hanno magari i contatti su un'agenda cioè ma sei pazzo hanno magari i contatti di tutti i loro clienti dei loro leads o meglio dei loro contatti interessati su un quaderno e non li digitalizzano se li digitalizzi hai tantissimi vantaggi puoi creare per esempio un autorisponditore puoi creare una lista di mail e mandare un'email a tutti in automatico senza contattare uno ad uno puoi creare liste su whatsapp puoi creare gruppi su facebook puoi creare liste su messenger su telegram scusami e mandare messaggi di massa quindi l'imprenditore per me 2.0 anche l'imprenditore classico o chiunque lavoro offline deve prendere questi contatti e metterli online cioè se io ho una palestra e tutti si iscrivono in palestra io la prima cosa che faccio è prendermi i loro dati li metto in una newsletter li metto in una newsletter e i ragazzi in palestra è uscito un nuovo corso di non lo so pure ehi questo sabato facciamo il seminario sull'alimentazione vieni 5 euro e lo manda tutta la mia lista ma ragazzi se siete imprenditori e avete un bacino di utenti li devi schedare li devi mettere in lista di mail se qui la prima cosa da fare poi ce ne sono altre mille io un'altra cosa che farei è creare un gruppo facebook o dei clienti ho per esempio un centro benessere una palestra vado a creare il gruppo facebook li tengo tutti nella mia bolla in questo modo gli posso dare delle delle informazioni gli posso mandare delle notifiche digitalizzati perché così puoi automatizzare anziché chiamare tutti uno ad uno mandi la newsletter a tutti li vendi quello che vuoi un'altra cosa per esempio che consiglio a tutti che sia fondamentale chi lavora già con un autorisponditore devi dividere le liste non puoi avere una lista unica non puoi avere la lista di mail di persone interessate e non puoi avere la lista di mail di persone che hanno comprato insieme in un'unica lista e parlavo qui al mastermind al mastermind di dubai ragazzi prossimamente ci sarà un altro mastermind a dubai a marzo voglio che vieni se te la senti viene dubai lavoriamo insieme per tre giorni sul tuo business e lo rivoluzioniamo c'erano degli imprenditori anche importanti ma che fatturano parecchio è ma cifre veramente a 6 0 annuale facilmente cifre oltre i 100 mila euro annuali 6 0 sono 500 mila euro sono 6 0 tanta roba è sono sono 5 0 più un numero 6 cifre scusami annuali che hanno le liste email uniche cioè non è possibile che fatturi più di 100 mila euro all'anno e le liste uniche cioè ai tuoi contatti i tuoi clienti nella stessa lista perché perché non posso comunicare nello stesso modo ci ho persone che mi hanno già pagato e persone che sono interessate al mio prodotto la comunicazione deve essere diversa non posso mandare un'email unica a tutti quindi sono imprenditori che fanno la loro lista mettono tutti insieme ma è sbagliato metti da una parte che è un tuo contatto interessato e li mandi mail di un certo tipo e dall'altra parte chi è già tuo cliente li mandi mail di un certo tipo diverse chi è già tuo cliente li vendi gli altri prodotti li chiedi come va li inviti alle cose successive devi avere anche una scala del valore la value ladder c'è una persona entra con un prodotto base e poi gli vendi sempre di più gli vendi sempre di più gli vendi sempre di più cioè tu persona entri nel mio centro benessere per farti il massaggio ti metto una lista email dei clienti e segno anche massaggio e li metto una lista di quelli che hanno fatti i massaggi e poi gli sparo un email e li invito a provare yoga invito a provare il trattamento non lo so la giornata alla spa che costa 10 volte di più capisci trova il modo di schedare i tuoi clienti puoi schedarli in mille modi diversi ma l'essenziale per me la base perché a me piacciono le cose semplici sono contatti divisi e clienti dall'altra non puoi comunicare allo stesso modo però digitalizza quei maledetti contatti va bene e più forte sei a prendere persone come si dice online e portarlo offline e viceversa cioè dall'offline le porte online più soldi fai un'altra cosa che io ho visto fare da un attimo si bloccherà leggermente il video perché sto aprendo google chrome forse un'altra cosa che ho visto fare benissimo da una palestra dove andava anni fa era il gruppo facebook il gruppo facebook della palestra è una figata perché tutte le persone si conoscono e quindi possono comunicare nel gruppo e crei crei interazione le persone stanno lista in un ambiente dove si conoscono tutte e poi gli vendi quello che vuoi hai il gruppo facebook della palestra crei casino crei divertimento promuovi la pizzata di gruppo e poi a quel punto gli dici ehi ragazzi gruppo pubblici nel gruppo facebook e dici ehi c'è il nuovo non so yoga retreat c'è la giornata yoga sabato prossimo c'è il weekend yoga venite tutti e glielo faccio sapere tramite il gruppo facebook e in più gli mando una newsletter a tutti sono multi channel ho il gruppo facebook ho la newsletter e magari uno non apre l'email però è attivo sul gruppo facebook e li acchiappo tutti andiamo alle domande ragazzi spero che questo sia 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 arrivato va bene digitalizzati se sei offline porta il tuo business online se sei online porta il tuo business online e viceversa è lì la vittoria e lì ci sono i soldi puoi usare money up non lo uso money up massimo chi sogna che sogno li voglio tutti ho bisogno di aiutare tanta gente grande giusi vuoi fare i soldi che grande non vedo l'ora di partire con il mio progetto e con il vostro appoggio grande grande daniele vai vai avanti tutta digitalizzare con quale risponditore io uso get a response giusi è anche gratuito i primi 30 giorni quindi lo puoi provare validissimo get response grazie per ogni giorno che illumini la mente spendere anche i money up anzi contattatemi pettinato massimo non fare promozione del tuo business sulle mie dirette non lo fare ma poi è una cosa che anche vi consiglio ragazzi allora se tu vai nelle allora il segreto creare contenuti va bene e non andare nelle dirette di altri a promuovere il proprio business va bene perché se vai nelle dirette di altri a promuovere il tuo business realmente stai dimostrando che non hai nessun tipo di leadership perché chi ha un business valido non ha bisogno di andare nelle dirette degli altri a promuovere il proprio business basta promuoversi da solo chi invece non ha la capacità nella leadership di promuoversi da soli inevitabilmente va a pescare di qua e di là ma non è una strategia realmente né etica a mio modo di vedere né che porta risultati spendete in pubblicità spendete pubblicità ma terbalife meglio google ads o facebook ads facebook ads ti direi google non puoi usarla peppe ti direi anche bing perché su bing puoi promuovere un sacco di cose quindi bing per me grazie joan per condividere il video come posso farlo due anni che ci provo e non vado a nessuna parte esatto dove si inizia soprattutto come vado avanti allora giusi c'è il corso universitario una cosa importante ragazzi per chi non lo sapesse io sono un prof universitario qui sopra c'è il link al corso che abbiamo creato con la marconi international university di miami c'è qui sopra in descrizione il corso parte dall 1 dicembre dura per sei mesi ma è online quindi uno lo può guardare quando vuole per sei mesi noi carichiamo contenuti uno può andare al ritmo che vuole quindi ruba poche ore a settimana alla fine ottieni il certificato di digital marketer e la qualifica proprio di digital marketer rilasciata dall'università quindi è tanta tanta roba in un percorso che in sei mesi ti forma a 360 gradi sul marketing online è veramente potente quindi tutte le informazioni sono qui sopra abbiamo anche pubblicato nella pagina il programma completo e trattiamo per in cui in questi mesi trattiamo veramente tutto il mondo del web alla fine di questo percorso puoi lavorare per te stesso quindi creare la tua agenzia di social media marketing e andare a promuovere i business degli altri facendoti pagare che è una figata gestire magari l'instagram di qualcuno il facebook di qualcuno non hai bisogno di vendere nulla realmente gestisci solo le pagine degli altri sei qualificato per farlo sei credibile sei professionale e puoi essere pagato ti gestisci 5 6 a pagine facebook e instagram e già guadagni uno stipendio puoi lavorare da casa cioè il sogno secondo me puoi imparare a fare questo puoi imparare a gestire o costruire un e commerce quindi gestire l'e commerce di altri o costruire il tuo puoi fare l'affiliate manager per piattaforme che hanno degli affiliati non sanno come gestirle puoi lavorare una grande azienda puoi fare veramente un sacco di cose al termine di questo corso tutti i dettagli sono sono qui sopra quindi giusti ti consiglio di partire da lì partita iva per fare attività online non c'è bisogno di partita iva realmente stefania allora il discorso della partita iva è questo non preoccupatevi della partita iva preoccupatevi di fare soldi preoccupatevi di avere un sistema di business preoccupatevi di iniziare a studiare e capire come lavorare poi appena inizi a guadagnare ti devi aprire la partita iva la partita iva funziona in questo modo se sono attività che tu fai occasionali quindi se tu inizi a guadagnare i primi soldi online puoi metterli nella dichiarazione di redditi come attività occasionali ea quel punto te la cavi ma per quanto te la cavi il primo anno forse il secondo nel momento in cui però inizia a guadagnare non tanto cifre grandi ma cifre ricorrenti cioè inizia a guadagnare 500 al mese 500 al mese 500 al mese 500 al mese tutti i mesi o mille 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 tutti i mesi a quel punto è un problema perché a quel punto non si tratta più di attività occasionale e te la possono contestare non finisci in prigione però ci vai a pagare le tasse il mio consiglio è questo qui il mio consiglio da imprenditorio va bene poi chiaramente uno parli col proprio commercialista ma io ti dico quello che ho fatto quello che consiglio di fare il mio consiglio è impara a lavorare comprati corsi studia a quel punto lanci il tuo business appena generi primi guadagni li dichiari tranquillamente e poi successivamente ti apri partita iva nel momento in cui i guadagni sono ricorrenti hai capito ricorrenti non c'è una frequenza non dicono una frequenza nella legge dicono guadagni ricorrenti ricorrenti si intende tutti i mesi o tutte le settimane se arrivano pagamenti tutte le settimane cavolo lì dopo un po ci vuole la partita iva perché non puoi più dire che occasionale se invece paradossalmente fai tante vendite un mese e fai 10 mila euro e poi per qualche mese non fai più niente è occasionale quindi il vero problema è la ricorrenza no cioè il mio discorso è quello prima inizia a fare i soldi poi ti strutturi in modo da dichiararli certamente e soprattutto da prenderti la partita iva però finché sono occasionali mettili nella dichiarazione dei redditi si vanno a sommare quello sì si vanno a sommare con gli altri redditi però cavolo no hai fatto soldi quindi ragazzi il mindset è fondamentale non fatevi frenare da queste cose perché non inizierai mai se tu inizi a pensare porca miseria devo pagare troppe tasse ma porca miseria poi devo dichiarare sì i soldi vanno dichiarati te lo dico io che non hai idea di quanto ho pagato in tasse negli ultimi due anni ma mi ci potevo comprare veramente due ferrari veramente è una roba assurda schifosa però non vedevo l'ora di avere questi problemi ti voglio fare domande secondo corso linda quanto tempo si iniziano a vedere i primi guadagni serve la partita iva non serve la partita iva l'abbiamo detto luca compra il corso l'in perché è veramente valido dopo quanto si iniziano a vedere i primi guadagni sono persone che in sei ore hanno visto i primi guadagni persone che in un mese hanno visto i primi guadagni come media io ti direi tre mesi luca in tre mesi la maggior parte delle persone iniziano a generare dei guadagni in qualsiasi business scelgono la maggior parte di quelli che fanno azione ti devo dire una cosa assurda tra dico in chat grande davide fammi sapere dai davide è un amico che ci sentiamo spesso mi fa piacere sentirti ma fammi sapere come va devono vedere tante volte per iniziare ad essere credibili è vero c'è qualche altra domanda dai ragazzi chiedetemi qualcosa magari sul vostro business se desiderassi non ricevere telefonate mantenere tutto online converte per forza meno per me si converte meno gabriele allora c'è è un'ottima domanda quella che mi hai fatto se tu tieni tutto online e dici non voglio essere chiamato o paghi o ciao ti rimartello con retargeting eccetera sicuramente perdi delle vendite perché ci sarà chi vuole parlare e non paga direttamente online ci sarà sicuramente o chi disperatamente cerca il modo di contattarti non lo trova allora se ne va però puoi supplire a questa cosa in un altro modo aumentando il traffico cioè io per dirti come ragionavo gabriele ragionava così dicevo sì non rispondendo al telefono perdo delle vendite è vero però quel tempo che risparmio lo uso per portare più traffico quindi la ragionavo così se ho mille persone che visitano il mio sito e una persona mi chiama la perdo però quel tempo che ho risparmiato quindi quelle due o tre ore al telefono che sarei stato a chiudere le vendite le uso per portare più traffico porto magari diecimila persone sul sito allora di diecimila due o tre in più comprano quindi se tu abolisci il telefono abolisci il contatto umano ci sta perdi delle vendite cento per cento non c'è dubbio ma hai più tempo libero e poi portare più traffico quindi lavoravo così non rispondeva il telefono cadava cadeva anche questa qui un'altra cosa ragazzi c'è gente che ti dice no ma sono tutte cavolate tutte cavolate c'è gente che ti dice questo ti dice un funnel deve convertire per forza almeno al 20 per 100 solitamente dicono vale di fare un funnel che converte al 20 per cento ok quindi porto non so 100 persone a vedere il mio sito 20 lasciano l'email o venti fanno azione va bene 20 per cento un buon dato poi c'è chi dice 50 per cento ok 50 per cento un buon dato ma teniamo il 20 no deve convertire al 20 per cento sennò sei fregato cavolate perché io se non converte al 20 per cento ma converto al 2 per cento però c'ho un milione di persone che mi trovano ogni giorno faccio i soldi lo stesso quindi dove non arriva la perfezione segnati questa frase che copyright di matteo pittaluga dove non arriva la perfezione arriva la perseveranza arriva la perseveranza non essere perfetto punta a martellare punta a fare azione conosco così io conosco pieno di marketer pieno che di chi fanno gli esperti ne sanno anche dieci volte più di me ma non fanno azione quanto me nel tempo in cui tu marketer perfettino stai lì a perfezionare tutto il tuo cazzo di funnel tutti i tuoi cosi matteo pittaluga ha fatto dieci video dieci dirette su facebook ha mandato dieci mail e ha fatto più soldi di te quindi non puntare ad essere perfetto subito punta a fare azione noi siamo gli all inners va bene per chi non ci conoscesse marketingi noi siamo gli all inners siamo persone che vanno all in abbiamo creato questa cultura con i braccialetti degli all inners questo giallo che vedete in realtà dorato è per i membri del dubai mastermind quindi questo qui è un'edizione speciale per chi viene fino a dubai a prendersi devi venire fino a dubai per avercelo se non ce l'avrai e ci siamo chiamati all inners perché andiamo all in facciamo azione amico mio i soldi il successo non arrivano a caso devi fare azione massiccia è meglio l'azione imperfetta che nessuna azione quindi tuo fan che converte al 20 per cento lo sai cosa faccio ci sputo sopra e porto un milione di persone sul mio sito porto un milione di persone sul mio sito ne faccio più soldi di te hai capito così si fa ragazzi poi non dico di non ottimizzare io dico sì ottimizza però è come dire vuoi fare una scultura avete mai visto come fanno una scultura ti arriva un blocco di marmo e inizia a martellare inizia a martellare e no però devo fare i dettagli si ma tu non parti dai dettagli tu parti da un cacchio di blocco di marmo e devi martellare poi dopo vai a fare le perfezioni l'occhio perfetto la sopracciglia il capello alla statua glielo fai dopo amico mio scusami scultore io faccio dopo le sopracciglia alla statua io prima voglio avere una statua ok condividi questa diretta che mi sto gasando e ho bisogno del tuo appoggio dai condividi 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 bravo matteo prima i soldi poi le tasse volevo fare ads per promuovere la mia consulenza dicendo che sono partito in mg mettendo una foto certo certo mettila mettila ti presento matteo un grande segnante di marketing un genius grande monica che tagga rossella ciao rossella benvenuta non vedo link allora devi uscire dalla diretta giusi esci dalla diretta appena esci dalla diretta qua sopra vedi il link oppure te lo mando in privato dopo tu dici di usare ads la mia era una risposta ok se io desiderassi non ricevere il telefonato che abbia risposto meglio traffico meglio il traffico ragazzi voto tutto tutta la via altra tutta la vita al traffico sto per aprire altro locale non c'entra bari quindi stessa città ma indirizzo diverso sai se tecnicamente facebook ti fa inserire doppio indirizzo una doppia giornalizzazione non penso sai alessio mi colli impreparato su questo però io non penso non penso però quello che puoi fare su facebook le metti una e poi nelle informazioni nella descrizione della pagina ci scrivi subito l'indirizzo dell'altra cioè ci scrivi siamo a due punti e le due location faccio la parrucchiera ed è migliore da fare da domani mattina per portare traffico nel mio negozio giusi una bella facebook ads dove presenti le novità del 2019 e i migliori prodotti e tipi di taglio o trattamenti del 2019 e la fai girare adesso e dici che da te già disponibile per i parrucchieri una giochere così mi aggiornerei su mi si è staccato un attimo la telecamera su facebook ecco riaccomi ragazzi si è staccato un attimo la telecamera se non voglio vendere devo reclutare cosa devo fare tiziana vai all in marketing genius e poi mi scrivi un'email e ti attivo un bonus che ho fatto sul network marketing e te lo vai a vedere vai all in comprati il corso e poi ti attivo un bonus sul network marketing cosa cosa vuoi fare se vuoi se vuoi reclutare di avere un tuo sito devi creare valore devi diventare la segreti in ogni network ragazzi lo continuo a ripetere devi diventare la fonte di informazioni diventare la fonte di informazioni quindi video tutorial sulla tua azienda come dico sempre io faccio l'esempio di erbalife ma vale per ogni network vedo un sacco di persone gasate che pubblicano sì che figo siamo qui alle 20 erbalife ma non c'è nessuno che mi dice come iscrivermi in erbalife non c'è nessuno che mi spiega il piano compensi cerco erbalife su youtube trovo gli ultimi video di quattro anni fa cioè non c'è uno che mette la sua bandiera dice e io sono una persona che online ti dà le info su erbalife io sono una persona che online ti mantengo aggiornato e tutti vogliono entrare con te ma fare video in diretta mettendoci la faccia indispensabile non vorrei apparire in prima persona guarda federico ne affrontiamo questo argomento nei prossimi giorni quando parleremo proprio di questo quindi ti lascio in sospeso però la mia risposta è non è indispensabile puoi usare altri modi però chiaramente non in diretta se vai in diretta la tua faccia è indispensabile però per fare soldi online non è indispensabile metterci la faccia condiviso grande lorenzo affiliate o e-commerce te cosa fai? io ho fatto entrambe ho fatto entrambe luca ho fatto un e-commerce ma non in dropshipping ho fatto un e-commerce di vendita di prodotti nostri o meglio li compravamo e li rivendevamo e ho fatto affiliate ti direi che entrambe sono belle allora l'affiliate è per gente appassionata vedi la così l'affiliate è per chi è un mercenario ne parleremo nelle prossime dirette dai luca ti lascio in sospeso nelle prossime dirette parliamo di affiliate va bene però essenzialmente l'affiliate lo vedo molto per chi è proprio la cultura dell'affiliate è divertente è bello perché tu vai a cercare sempre i prodotti nuovi non so esce l'acqua alcalina per i cani una figata scopri che esiste vai a cercare l'affiliazione la lanci tu però dopo un po finisce l'hype cioè dopo un po non se ne parla più passa di moda ti devi cercare un nuovo prodotto quindi è figo perché sei sempre lì è un ambiente divertente perché poi vai agli eventi conosci persone è figo fare affiliate l'e-commerce anche molto bello è un po lo stesso ambiente perché comunque c'è tanta gente che sono affiliati fanno anche e-commerce però è più stabile nel senso crei il tuo store è sempre quello e crei la tua marca è esattamente come creare il proprio brand cioè tu crei il tuo shop crei il tuo negozio è online vendi prodotti di altri però è tua la marca quindi realmente stai facendo l'imprenditore due concezioni un po diverse l'affiliate è molto da mercenari però mercenari che gli piace quello che fanno quindi non li posso di certo criticare perché anche io l'ho fatto è molto bello e l'e-commerce invece per chi vuole vuole proprio creare la sua marca e realizzarsi forse un po di più come imprenditore io bevo acqua alcalina da 10 anni ciao pita il sito è partito grande dino non fare mai siti gratuiti giustamente per fare un sito internet è gratuito averlo su google paghi qualcosa siti internet non farli mai gratuiti mai 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 giovanni mai siti internet fateveli nel mio corso all in insegno come farli chiaramente nella maggior parte dei miei corsi insegno a fare i siti e abbiamo anche un servizio marketing genius per creare i siti web quindi se vuoi ti fatto faccio fare dal mio programmatore scrivimi te lo faccio fare ci facciamo un preventivo però non fare il sito gratis no mai nella vita ragazzi fanno schifo e materiali i siti gratis e realmente il materiale non è nemmeno tuo quindi quello che carichi lì sopra di proprietà di chi gestisce il sito quindi non hai diritti effettivamente sei in una dittatura per il drop shipping consigli di puntare su molto sui prodotti e pacchetti di prodotti che si trovano già in giro o pochi prodotti esclusivi ma con magari meno pubblico ma realmente non c'è una filosofia daniele per me vanno bene entrambi cioè puoi puntare su prodotti più di nicchia e averne pochi e puntare sul pubblico stretto o prodotti molto grandi forse la nicchia è quella che tira di più bene tipo inserire nicchie ancora inesplorate per me l'ideale è trovare un qualcosa di emergente creare qualcosa su quello va bene quindi forse la nicchia però ci sono anche siti su due modi di lavorare diversi quando tu lavori con prodotti che sono già conosciuti nel drop shipping tu devi andare proprio a creare il bisogno alla persona devi proprio andare glielo a sbattere in faccia quando invece crei un prodotto porti un prodotto nuovo tu devi proprio dare più tantissime informazioni che se io ti vende una maglietta cavolo la maglietta un tutti sanno cos'è una maglietta uno se la vede se la compra devo solamente farti vedere che è figa e convincerti se invece porto l'acqua alcalina per i cani per esempio in un e-commerce faccio l'e-commerce dei prodotti alcalini e cavolo li devo fare molto lavoro di divulgazione divulgazione perché ti devo dare informazioni spiegare molto di più bla 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 però chiaramente non hai concorrenza quindi testerei su quello il mio consiglio in tutti i casi daniele nel momento in cui fai un e-commerce pensala così stai andando a creare il tuo negozio tu apriresti un negozio di qualcosa che ti fa schifo cioè sei allergico agli animali apriresti ai pelo di animali apriresti un negozio di animali no capisci cioè io andrei su un settore che mi piace ti piace la nutrizione vai di drop shipping in nutrizione ti piace il non so il business online crea un e-commerce di che vendi non so video corsi in affiliazione piuttosto ti piacciono i prodotti di benessere fai qualcosa su benessere ti piacciono i vestiti fai qualcosa sui vestiti la mia idea è perché poi sarei molto più bravo a gestire e creare un sito su qualcosa che ti piace quindi andrei su comunque sulla scelta di un settore che minchetti entusiasma perché poi vai a creare il tuo brand hai capito e così da un'opzione valida per inserire prodotti in automatico sulla vetrina di facebook in automatico non puoi daniele no devi andare a inserire tu manualmente i prodotti nella vetrina di facebook però ti do un consiglio inseriscine pochi inserisci quelli di punta e hai vinto quelli di punta per me quelli di punta poi chiaramente se hai un business dove cambiano continuamente li devi aggiornare come la vetrina di un negozio ogni tot e la vetrina devi cambiare quindi lo devi fare però per esperienza ti dico la vetrina a mio modo di vedere quando io gestivo l'e-commerce il negozio di abbigliamento noi cambiavamo spesso la vetrina su facebook e non mettevamo tantissimi prodotti perché le persone ne vedono due tre poi appena cliccano vanno sul sito e lì si vedono gli altri l'importante mettere quelli più fighi per me ne avevo una decina forse 15 e poi le persone andavano a vedere il resto c'è chi c'è qualcuno ecco c'è qualcuno non faccio il nome che dice che sbagliamo a fidarci di chi offre corsi come i tuoi ho comprato corsoline sono molto contento grazie grazie per il feedback ragazzi posso dirvi anche un'altra cosa e ve la dico col cuore ci sono persone là fuori che usano marketing molto aggressivo e per si propongono un po con l'angolo del so tutto io gli altri non valgono niente invece ne parlavamo anche con il mio socio fabio la realtà sul web dell'internet marketing proprio che non esiste un'unica via per fare le cose cioè non esiste la il segreto supremo esistono tanti modi diversi di avere di arrivare lo stesso risultato e l'unica realtà è testare cioè non esiste la persona che ti dice io sono migliore si fa solo così c'è solo una verità assoluta non esiste una verità assoluta non esiste ci sono aziende che hanno fatto i soldi con strategie di marketing completamente diverse eppure hanno avuto risultati la mia realtà a me o meglio quello che penso io è che esiste solamente il fatto di prendere più informazioni che puoi e poi trovare la tua via la tua via solo tu ci puoi arrivare perché ognuno è diverso a ognuno di noi piace fare cose diverse ognuno di noi ha talenti diversi devi prendere tutte le informazioni che ti diamo e trovare il modo di ricomporre i pezzi del puzzle e trovare la tua via il più delle volte ci arriverai tu con l'esperienza cioè più cose studi più cose impari più capisci qual è la tua via e più cose testi più capisci qual è la tua via e quella lì l'unico modo come diceva che era socrate gallo che diceva so di non sapere è così l'unica cosa è anzi più ne sai più paradossalmente ti rendi conto che un mondo sconfinato perché io stesso ogni giorno impara un sacco di cose nuove sul marketing un sacco di cose nuove c'è qualcuno ma pensati questa ti faccio un esempio c'è qualcuno che diceva c'è perché c'è chi dice deve la verità assoluta e dice è quando fa il lancio di prodotto devi mettere il prezzo del prodotto quando fai l'offerta la prima sera massimo scontata di non so del 50 per cento noi invece abbiamo lanciato un prodotto cioè prediti se vuoi lanciare un prodotto a 1000 euro lo devi mettere in offerta la prima sera 500 non di meno noi abbiamo lanciato un prodotto da 5000 euro e abbiamo fatto una follia l'abbiamo messo a 300 euro la prima sera qui un prodotto da 5000 anzi che vende la 2005 che la metta abbia messo a 300 euro e abbiamo fatturato 100 mila euro in una notte stravolgendo completamente le regole tutti quelli che fanno lanci di prodotti ti dicono crea un prezzo che non sia troppo assurdo e fai un'offerta che non sia troppo assurda noi abbiamo detto testiamo proviamo a sconvolgere le regole del gioco vediamo un prodotto da 5000 lo mettiamo a 300 e poi lo alziamo a 5000 vediamo cosa succede l'hanno comprato tutti la prima sera 300 abbiamo fatturato 100 mila euro in una notte in una notte ok quindi le regole del marketing per me non esistono esiste la verità assoluta esiste solo il testare ed esiste solo capire quali sono le tue abilità qual è la tua fonte di traffico dove sei più forte quindi se sei più forte su facebook su google testa provaci esiste solo capire anche cosa ti piace di più fare se ti piace di più fare i video se ti piace di più lavorare col cappuccio in testa non farti vedere se ti piace di più creare pagine web oppure no insomma io la vedo un po così su facebook è meglio promuovere prodotti con le caratteristiche girando bel video o mettendo una bella foto del prodotto il video il video tutta la vita giovanni c'è anche il carosello che figo sai carosello quello che strisci così laterale e le vedi tutti i prodotti quello potente però ti direi che nella maggior parte dei casi il video il video in sé fa anche da foto ma nel video puoi far capire meglio giusto grazie per il contributo paolo qual è l'approccio migliore per parlare con una persona che ti chiede informazioni sul tuo business allora l'approccio migliore alessandro per me è l'approccio dell'elevator pitch l'elevator pitch è quel dire poche cose nel giro in ascensore quindi nel tempo che tu fai a fare un paio di piani in ascensore trovare le parole per convincere qualcuno a chiederti di più quindi trovare l'elevator pitch sarebbe l'investor pitch cioè convinco una persona a investire nel mio business grazie ad un tre parole che gli dico in ascensore due frasi è quello quindi la cosa migliore è dirgli non so ma cosa di cosa ti occupi tu guarda io aiuto le persone a fare soldi ea sentirsi meglio attraverso la nutrizione e ma come funziona guarda adesso sono di fretta prendiamoci il tempo e te lo spiego bene tutto quindi il modo migliore è quello è avere la completa attenzione della persona se la persona non ti dà il cento per cento dell'attenzione non gli spieghi il tuo business e questo vale anche online io prima solitamente colpisco la persona con un video che ti incuriosisce che ti dà del valore ma ti incuriosisce che ti parla dei benefici quindi ei sono matteo il mio compito è insegnarti a fare marketing online a imparare come lavorare da casa a lasciare magari il tuo lavoro creare un'entrata extra grazie al web ci sono vari modi se ti va vieni nel mio webinar o guarda la mia diretta e ti spiego quali sono quindi in pochi secondi ti dico di cosa mi occupo e che benefici avrai da me e poi però io voglio la tua completa attenzione per 30 minuti un'ora quello che mi serve non ti spiego il mio business non ti spiego il mio prodotto non faccio una presentazione se non ho il tempo di farla se no è un casino se no è veramente un casino questo l'ho imparato anche vedi queste cose qui le imparate dall'offline quando io vendevo offline magari al telefono l'idea era sempre quella delle ai dieci minuti se non se non li hai quando ti posso richiamare ma se non hai tempo non hai la mia l'attenzione completa verso di me non ti presento il mio business non è una critica no no lo so che non era una critica enric ma figurati lo so benissimo era una domanda per capire questa persona io voglio prendere anche il tuo corso università di maglie di miami viene in università o meglio è virtuale lo sai e poi vieni a barcellona ragazzi importante per chi la verità è conoscere e uscire dal buio dell'ignoranza grande grande giuse sono d'accordo sei devastante grazie vittoria c'è il corso con l'università Enric c'è il corso che è molto bello abbiamo pensato con l'università di fare una cosa un po' diversa è un corso pratico che parte dalle basi del marketing e poi affrontiamo tutti gli argomenti del marketing cioè il traffico le promozioni a pagamento l'e commerce come crearlo e come gestirlo parliamo anche di protezione dei dati che è molto interessante c'è un modulo intero nel corso universitario sulla protezione dei dati per chi gestirà un database o proprio del proprio business o di un'azienda e non sa come gestire questi dati e farlo in modo legale abbiamo una parte su questo abbiamo una parte su cos'altro abbiamo sull'automatizzazione anche come automatizzare un business quindi generi contatti chiudi le vendite e poi come rendi il processo automatico c'è un modulo intero su quello un mese intero ci concentriamo su quello è veramente pazzesco un gran corso e poi la fine del corso a giugno il corso è tutto online non lo può guardare quando vuole ma poi a giugno facciamo un workshop di due giorni a barcellona dove ci siamo messi in contatto con tre aziende locali spagnole e potremmo anche farlo con qualcuna italiana non lo so però di base ne abbiamo tre spagnole e quello che faremo è vendere i loro prodotti veramente online una roba che non ha mai fatto nessuno cioè non il tipico corso universitario dove il prof è lì la lavagna e ti dice ehi bla 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 fai così così cosa no workshop universitario dove io e fabio saremo saremo i docenti dove prendiamo prodotti di aziende vere e li vendiamo e vendiamo magliette non ti posso dire tutti i prodotti adesso però sono anche attività fisiche insomma venderemo questi prodotti davvero allora una cosa è sapere la teoria un'altra cosa è fare vedere la pratica ma un'altra cosa è fare la pratica ti faccio veramente lanciare gli annunci lo facciamo insieme e magari chiudiamo delle vendite insieme quanto sarebbe bello far guadagnare già un'azienda in questo modo le persone escono da lì con un curriculum chiaro anche di risultati e possono dire e io ho già fatto guadagnare st'azienda e ho effettivamente la prova potentissimo ho il certificato dell'università tanta tanta roba ok non è mai stato fatto prima da nessuno quindi penso che sia grande lorenzo ci vediamo al corso universitario poi ci vediamo a a barcellona va bene ragazzi tempo di chiudere qui se avete bisogno di maggiori informazioni sui miei prodotti i miei servizi vi lascio la mia email la email la scrivo qui al volo info scrivetevi sulla mia email personale info se vi va info chiocciola matteo pittaluga punto com eccola qui info chiocciola matteo pittaluga punto com anzi la metto che passa la metto strisciante guarda agenda creiamo titolo no sbagliato e adesso la metto passante info at matteo pittaluga punto com questa è la mia email la vedete scorrere adesso penso se ce la faccio sì ok info chiocciola matteo pittaluga punto com per chi vuole venire al corso universitario c'è il programma qui sopra ho messo il programma in descrizione quindi se esci dalla diretta nel post c'è il programma universitario c'è la pagina con tutti i dettagli le iscrizioni per il corso universitario stanno per chiudere quindi fai azione è il corso più completo mai fatto da da veramente da un ente ufficiale ecco sul digital marketing e se hai bisogno di qualsiasi informazione scrivimi info chiocciola matteo pittaluga punto com ti mando un abbraccio grande buona serata e a presto grazie a tutti